Alessia Marcuzzi, il selfie è senza trucco, e in la conduttrice su Instagram si mostra al naturale. Alessia Marcuzzi è molto attiva sul proprio profilo Instagram, tutti i giorni posta storie o immagini che mostrano ai suoi follower cosa sta facendo, i suoi progetti lavorativi o come trascorre le vacanze. Alessia Marcuzzi è poi sempre detto che secondo lei i social sono utili per veicolare il messaggio che la normalità e l'essere se stessi è la cosa migliore. Proprio per questo ha pubblicato la sua ultima storia su Instagram. Nell'ultima storia Instagram che Alessia Marcuzzi ha postato sul proprio profilo. Si mostra in tuta e senza trucco. La conduttrice indossa una maglietta bianca ed è pettinata con uno chignon alto. Alessia non indossa un filo di trucco e sorride guardando l'obiettivo. Secondo la conduttrice mostrarsi per ciò che si è? È una delle cose migliori che una persona possa fare e proprio per questo non teme il giudizio della gente. Gli a terra hanno spesso criticato Alessia per le sue gambe, ma lei sembra non averci mai fatto caso e proprio durante la presentazione del suo show buomerissima. Si è alzata e ha detto, ecco queste sono le mie gambe, saranno brutte e storte ma mi piacciono così. Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, sul proprio profilo Instagram conta 5 milioni e mezzo di follower. Il suo show buomerissima ha riscosso moltissimo successo e il format, Bomer contro Millennial, è davvero piaciuto ai telespettatori che ogni martedì, quando la trasmissione andava in onda, commentavano sui social.